Salve tutti, io sono Francio25 e oh mio Dio è passato più di un anno da quando ho detto questa frase l'ultima volta. Siamo tornati sul canale, è passato più di un anno, oh mio Dio, sembra ieri quando registrovo i video di Slendrina, ma vabbè. Oggi siamo su un nuovo gioco horror che non ho mai portato, ci ho giocato un po' per vedere un po' com'era. E' un po' bagato, un po' strano però, penso che comunque valga la pena provarlo. Quindi io direi, partiamo subito in... Farciamo normal. Questo è il filmato di introduzione. Siamo un postino che si avvicina a un'abitazione per consegnare un pacco. Appare un corvo da dietro e viene sbattuto dentro l'abitazione. Su il volume è troppo alto. Diciamo tipo qua. Ok. Eccoci qua, questa è la stanza dove il gentilissimo signor Corvo ci tiene in ostaggio. Se l'audio della voce si sente male è perché non ho più le cuffie con il microfono. Quindi si sentirà dal microfono il telefono. Non ci posso fare niente e mi dispiace se ogni tanto si sentirà male. Dunque, lo scopo di questo gioco è scappare dal signor Crow, ovvero il signor Corvo, e cercare di non morire. Dunque, non so se si sente l'audio del gioco, spero di sì. Ma dovrebbe sentirsi almeno un po'. Dunque, questa è l'abitazione. Di là ci sono anche altre cose. Se il signor Crow spona di sopra, per quello che ho capito, potrebbe anche sponare di sotto, questo non lo so. Spero vivamente di no. E ancora alto l'audio, perché l'audio di questo gioco è davvero troppo alto. Perdonatemi. Qua non c'è niente. Si può accendere la tv? No, ma io volevo vedere Pomeriggio 5. Che truffa. Eh vabbè. Attiriamo il signor Crow suonando il piano. Ma chi è che fa il rumore? Ecco. Ha appena detto What's that noise? Perché ci ha sentito. E eccolo qua. Guardate che bel signorino. Tutto vestito elegante. Un po' goffo. Ma come ti permetti? C'ha la schiena leggermente spezzata. Non può piegarsi più di tanto, però... È molto agile. L'ho visto saltare questo van per raggiungermi, letteralmente. E così non mi vede. Ma che vuoi? C'ho la cataratta. È molto agile. Questo ve lo posso garantire. L'ho visto fare dei salti che nemmeno gli atleti riuscirebbero a fare. Quindi... Non va sottovalutato come nemico. Ehm... Che cos'è questa? Ah! È la Ruined Bedroom Key. Questa è la stanza della camera da letto. Che poi non è una vera e propria camera da letto siccome è tutta rotta. Ma ora ve la faccio vedere. È praticamente quella porta lì. Sperando che lui non sia qua perché quando mi vede urla. Urla più dei miei compagni di classe. E questa qua sarebbe la Ruined Bedroom. La stanza da letto rovinata. Questo non so a cosa serva. Hold Beam. Ok. Qua c'è una stupendissima lampada e lui mi sa che sta salendo. No, che non sta salendo. È ancora di sotto. Da qua non possiamo andare in quella zona lì. Penso che dovremmo poi spingere questo palo. Questa colonna per farci da ponte. Ma ora mi butto sul camion e oddio. Una testa di cinghiale. Hanno ucciso Porchipig. Va bene? Eccati qua. Vieni qua. Ti faccio conoscere il mio bastone. Sei un nanetto. So più alto io. Ma come ti permetti? Vabbè, praticamente è un nano semplicemente perché tipo sta tutto piegato con la schiena. Questa so già dove si mette però voglio farvi prima vedere il suo bellissimo balcone che sta su un cimitero. Penso sia quello. Penso sia un cimitero. Guardate che bellissimo balcone. Vabbè. Ora andiamo nel suo ufficio. Questo è l'ufficio personale del signor Crow con i tavoli da biliardo. La sua scrivania privata. Il suo quadro di sto tipo qua brutto. Ma come ti permetti? Quello è mio zio. No, non l'hai chiusa questa porta. In caso non si fosse sentito ha detto I definitely closed that door. Ho definitivamente chiuso quella porta. Oddio ho fatto crocco nel pavimento e ho messo questa testa di cinghiale qua. Guardate il signor Crow che si aggira nel suo habitat naturale. Che ci fai nel mio studio? Ciao compà. Scusa ma io devo aprire il tuo dipinto. Se ti levi. Non la passerei liscia giovanotto. Ho prendere questa. L'ho presa. Torna qui. Nanetto schiatta. Sì, è un nano. Quindi mi diverto a chiamarlo nano. Con la Smolky si apre la cucina. Guardate che bella la cucina. Molto stilosa. E ci sono 8000 cassetti da aprire. Che io richiudo perché poi quello dice I definitely closed that door. E inizia a urlare. Quindi meglio di no. Nel freezer c'ha un teschio. Non voglio sapere di chi è. Probabilmente dal suo precedente postino che ha rapito. Qua delle cesoie. Taglia catene tipo. Qua non c'è niente. Porco due. Oh cos'è sto casino? Scherzavo. Ciao. Ciao ciao meraviglia. Giovanotto se ti vedo ti spezzo come la mia schiena. Sei pure cieco. Eh vabbè. Queste le butto qua. Perché ci serviranno poi per tagliare quella catena. Perché sì. Quella è la porta di uscita ragazzi. Sì. Ora si prende qua il foglietto che abbiamo trovato prima. Che non mi ricordo. No. Perché ti sei nascosto. Cretino. Il foglietto che eccolo. No. Non è questo. Dov'era? Ma dov'era? Eccolo. Come vedete. Questo è un foglietto con dei simboli. E i simboli simboleggiano dei numeri. Eh sì. Sono i simboli che stanno sulla tv. Quindi dobbiamo scendere giù con la speranza di non beccarcelo di muso. Oh cacchio. Era andato in bagno. Mi sdraio qua. Non dovrebbe vedermi. Guardate il signor Crow a girarsi nel suo abitato naturale. Mannaggia quelli dell'Enel. Mi hanno mandato 900 euro di bolletta. Fare retrofronta a caso. E tornare in bagno. C'è la vescica debole. Che stai facendo compa? Vabbè. Qua abbiamo il sette. Sette tre. Sette tre quattro otto. Ok. Sette tre quattro otto. Sì. Ho appena fatto croc nel pavimento. Lui urla. I'm coming. Haha. Quindi. Sette tre quattro otto. E si apre questa che è la stanza delle torture dove il signor Crow si diverte a fare esperimenti malati sui postini che rapisce. Questa stanza serve solo per recuperare una palla da basket. Che sì. Anche se la si tira addosso al signor Crow non gli fai un ceppo di nulla. Questa palla da basket serve per fare questo. E aprire quella porta lì. E niente. Si usa il bot cutter. Si tagliano le catene. E si esce. Ciao ciao Miss Crow. C'è ancora il mio pacco qua per terra. Che stai facendo? Oh. Levati. Tu sei stato riparato in casa mia e ora mi paghi l'affitto. Oh ma che chiamo il telefono azzurro? Io sono minorenne. No. Non mi sfuggireai. Le forze oscure mi aiutano. Ciupa. Here we go. Io chiamo la poliscia. Capito. You run away. I'm going to miss you. I'm not. You were able to get out of the mansion again. And unlock the hard game mod. Si. Man mano che... Si gioca. Si sblocca le modalità. Quindi si parte da Easy col tutorial. Praticamente la modalità Easy è una specie di tutorial. Che si fa appena starti nel gioco. Ti parte già nel gioco. Poi. Vincendoti da il normal che abbiamo appena giocato. E ora si va di hard. The full story of Dr. Crow's prisoner. Dr. Crow's hear everything. Even door creaking. Dr. Crow is really fast. You only get two tries to escape. Dr. Crow can crawl and jump as well as check cabinets and beds. Dunque. Andiamo. Skip però il filmato di introduzione. Tanto l'abbiamo già visto. E here we go. Io non so niente della modalità art. Perché man mano che si va avanti. Si vengono aggiunte nuove zone. E sono accessibili più zone. Quindi. Non so niente ragazzi. Ti vedremo tutto assieme. Qua non c'è niente. La tv come al solito si può aprire col suo codice. Che ogni volta è random. Ah. Mi dà subito la small key. Compà perché corri? Lo sento correre. E vuoi cagare. Mi dà subito la small key. Che ci dà accesso alla cucina. Io però prima voglio vedere quanto è veloce. Perché la descrizione dice che è tipo velocissimo. Devi ancora pagarmi l'affitto. Vieni qui e sgancio il cash. Ma non cambia tanto. Vabbè. Meglio così alla fine no? Ciao bro. Brutto tepista. Vieni qua. Guarda che io sono veloce. No can't hide. No no. Non mi nascondo. Io corro perché sei veloce effettivamente. Apri. Dove siamo? In biblioteca? Non l'ho mai vista sta zona. Cos'è la biblioteca? Noi siamo su Harry Potter. Certo che sei demente ragazzo mio. Oh mio dio. Non me l'aspettavo. Posso dire che non me l'aspettavo di morire. Comunque ho appena realizzato. Che voi non sentite niente. Perché io ho gli auricolari wireless. Quindi voi non sentite niente. Vabbè c'è la mia voce a farvi compagnia. Faccio un altro tentativo. Giusto per. Poi farò pratica. Off camera. E vedremo un po' come completare questo gioco. Allora partiamo subito senza perdere altro tempo. Io di solito lo attiro col pianoforte. Perché il pianoforte usarlo lo attira. Ok stavolta non mi dà la prison key. Piango. Ma. Non l'ho attirato. Compà. Oh finiscila. Sono di malumore. I'm coming. E vieni. No no. Vieni tu qui. Ciao amico. Ciao un corno. Mi devi ancora pagare l'affitto. Però è più veloce. È effettivamente più veloce. Mi ha detto come on. Come to grandpa. No. Copper key. A cosa mi serve una chiave di rame. Oh no. Oh no. Perché quella è già aperta. No compà. E dai. Vieni che non ti faccio niente. No non vengo da grandpa. Posso infilarmi qua. No. Perché nemmeno in normal si poteva entrare in quel cunicolo. Nel muro. Oh mio dio mi sa per prendere. Oh mio dio mi sa per prendere. Devo darmi una mossa. Io mi butto compà. Tu non ti puoi buttare vero. Noi invece sì. Sono abile. Oh mio dio si butta. Ho capito perché sei tipo goffo. Perché ti spacchi la schiena a buttarti. Ma sei demente. Dai compà mi lasci un po' di respiro. No. Entro qua che è la mia stanza. Come non detto. Oh compà però. Come stai addosso. Basta. Oh sta proprio addosso eh. Sta addosso non ti lascia un secondo. In pace. Dai fammi esplorare. Non fare il cattivo bambino. Ho sentito un rumore strano. Pensavo che fosse entrato. Oddio. Ma che ca... è caduto il quadro. Ma l'ho spinto io? Che bisogna fare? Oddio mi ha urlato nell'orecchie. Compà. Ma sei pazzo. In arte è difficilissimo. Dai compà. Sali. Che ti costa? Sono in bagno. Mi sto lavando. Non puoi entrare. La smolchi. Non puoi entrare. È il mio bagno. Posso fare quello che voglio. Ma come ti permetti? Mi permette come? È proprio un maleducato. Oh no. Un bambino con una X triste. Tutto triste. E io passo comunque. Allora qua devo riprendere la mia smolchi. Ora mi esploro un attimo la cucina. Perché ci sono nuovi enigmi. Come ho già detto. Sto arrivando. Oddio. Ma com'è incoming? No 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 compà. Compà non farei scherzi. No 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 compà. Eh sì. Sto arrivando. Qual è incoming? Ma lui si può abbassare? Certo. Cioè la schiena è tutto goffo dalla schiena. Non può abbassarsi. Giusto? È proprio piegato. Lui è nato storto. È nato piegato. Ma come ti permetti? Non può piegarsi. Giusto? Nel senso non può piegarsi. Ciupa. E invece posso? Salve. What the fuck bro? Get dragged. Ma che ca... No vabbè. Abbiamo solo due tentativi. Sono morto? Che fa? Una ba... Questa è per tutte quelle volte che mi hai dato del nano. Ara... Oh. Abbiamo scoperto la vera identità di Mortis su Brawl Stars. Ma torna a studiare? Demente. Eh vabbè. Sarà per la prossima volta. Quindi gente. Il video di oggi finisce qua. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando. Se vi è piaciuto mettete like, condividete e iscrivetevi al canale. Attivando la campanellina delle notifiche. Per non perdervi nessun nuovo video. Perché ho intenzione di ritornare a pubblicare. Per oggi è tutto. Al prossimo video. Ciao. E un saluto anche da Mr. Crow.